Eccoci qua amici di Italia TopGames, siamo collegati con Marco per i giocatori del lunedì che escono lunedì. Cosa ci riserva oggi Konami, Marco? Oggi abbiamo il Tottenham e il Chelsea, due squadre inglesi. Esatto, esatto. Andiamo subito con il Chelsea, iniziamo qua con Kanté e poi andiamo a vedere il Tottenham. Che ci dici del centrocampista francese che abbiamo avuto modo di commentarlo con la Francia? Eh, Kanté è un top player, fortissimo. Mi sembra che questa versione sia un pochino più debole in aggressività, ma sia meglio come possesso stretto. Comunque sì, diciamo si equivale anche alla sua versione precedente. Micidiale, cioè raggiunge un overall di 94, però le statistiche difensive sono mostruose. 99 in comportamento difensivo, 99 in recupero a palla, 98 in aggressività, 99 in equilibrio, 99 in resistenza, è anche veloce, c'è un buon dribbling, un buon passaggio. Penso uno dei migliori centrocampisti difensivi, ma anche in generale proprio. Un incontrista tutto rispetto a Kanté, l'unica, diciamo pecca può essere la statura, ma sicuramente è uno che fa leva, come si chiama, leva in mezzo al campo. Sicuramente secondo me è uno dei centrocampisti ottimi. Questo 94 è un po' fasullo secondo me a livello di centrocampista. Secondo me è un'ottima pescata questo di Kanté. Andiamo avanti, allora, andiamo avanti, abbiamo, allora, allora, oh perché mi è tornato in Kanté? Scusate, allora, scusate che metto qua la lingua italiana. Eccoci qua, abbiamo Kepa, vai con Kepa pure, Marco. Allora, Kepa raggiunge un overall massimo di 92. Statistiche portiere sono abbastanza buone, come 99 di comportamento portiere, presa 98, respinta 93, riflessi 99 e estensione 95. Dai, tutto sommato è un buon portiere. Sì, di seconda faccia. Sono veramente un'abilità, la rimessa lunga, però sì, sarà da aggiungersi poi il rinvio basso. Ma sì, sì, un seconda faccia è un po' abbastanza buono, dai. Sì, non è un top, ma di seconda faccia sicuramente Kepa può essere ottimo. Allora, secondo me il prezzo pregiato è Werner, che guardiamo adesso. Secondo me è un attaccante completo, visto che è sicuramente velocissimo. C'è 98 di velocità, 99 di accelerazione, resistenza 96, questo vi dura tutta la partita. 90 di frenalizzazione, forse pecca un po' in frenalizzazione, ma sicuramente, ragazzi, secondo me è un giocatore completo e davanti con la sua velocità può essere letale. Che ne pensi, Marco? Sì, sì, è molto, molto, molto veloce, dura tutta la partita, quindi diciamo il suo pezzo forte, saranno tipo i lanci di profondità. Bisogna sapere un po' come sfruttarlo, però si può spaccare la partita ai livelli di, magari non come Mbappé, però diciamo un pelino sotto, ma comunque di qualità. Esatto, esatto, il tedesco sicuramente è di qualità, poi tu lo conosci bene essendo che vivi in Germania. Giorginio, l'italiano, vediamo l'italiano brasiliano, Giorginio, ma come mediano secondo me c'è di meglio, visto che abbiamo commentato i vari, ad esempio Kanté può essere pure mediano, ma come mediano abbiamo Busquets, Casemiro e altri. Giorginio a livello di passaggio è ottimo, 96 di passaggio sotto terra, non è di passaggio alto, a livello difensivo secondo me pecca. È buono l'aggressività che è 87, però recorruppo all'81, comportamento difensivo 81, vedo un pochino basso, per fare il mediano, non so cosa ne pensi Marco. Sì, sarebbe meglio con due mediani, affiancato a un collante, così sì. Esatto, più da registro. Tipo un 4-2-3-1. Esatto, se uno utilizza il mediano da registro, sì, può andare benissimo Giorginio, ma se volete un mediano di rottura o più difensivo, secondo me Giorginio non è una pescata che fa per voi. Allora, andiamo avanti, abbiamo Abram, questo è un altro giocatore, secondo me è interessante, visto che è veramente, è un metro 91 ragazzi, veramente possente, non spicca in nulla, come potete vedere perché non c'è nessuna skill, ovvero 95, però è molto molto veloce, c'è 91 di velocità, 86 di accelerazione, c'è 94 di contatto fisico, resistenza 94, c'è 94 finalizzazioni, più di Werner, come sto vedendo. 86 di equilibrio, quindi è ottimo perché è un giocatore che è bello possente, ha molto molto equilibrio, colpo di testa 90, variazione 90, non spicca in nulla, ma questo qua secondo me è un po' come Ozyman, può essere un giocatore buggato, non so cosa, come lo valuti tu? Sì sì, infatti ha una finalizzazione colpo di testa, migliore di Werner, una velocità un po' più bassa, però si può essere anche lui una sorpresa. Ecco, pecca solo un po' nei passaggi, magari negli due stretti, perché c'è 78 di passaggio rosaterra e 74 di passaggio alto, ma secondo me è un ottimo giocatore, sicuramente da trovare e provare. Andiamo avanti, abbiamo Keywell, il terzino sinistro inglese, vai fuori Marco. Sì, Keywell raggiunge un overall massimo di 94, è molto veloce, ha velocità 93, accelerazione 94, una buona elevazione, un buon passaggio alto, controllo palla, velocità dribbling 86, è un buon giocatore. Le abilità difensive sono 82, recupero palla 83, aggressività 78, sì, magari poteva essere a livello difensivo qualche punto in più e quello fa perdere un po' di appello al giocatore, però tutto sommato può dare il suo contributo. Sì, sicuramente, soprattutto che terzini sinistri, mi vengono in mente Davis, mi vengono in mente Teo Hernandez, Alaba eventualmente, Jordi Alba e Robertson. Non è che c'è questa tanta varietà come potremmo avere degli attaccanti, quindi magari tenerlo lì in condizione A e B, secondo me questo può essere tranquillamente un titolare. A me, se lo trovo, sinceramente può essere lo sostituito di Teo Hernandez in caso di emergenza, visto che c'è solo lui e Robertson palla nera normale. Secondo me è una buona pescata per essere un terzino sinistro di buon livello. Andiamo avanti, abbiamo Avers, questo è un altro giocatore fantastico, l'anno scorso io non l'ho trovato, ma mi è dispiaciuto un casino non trovarlo. Allora, Avers, io direi di parlare subito dello stile di gioco, se sei d'accordo Marco, che c'è il giocatore chiave, che a te piace tantissimo questa carta, vai pure. Sì, sì, Avers, ce l'avevo io, l'ho avuto la fortuna l'anno scorso di trovarlo nella sua versione addirittura d'ottobre. Rudy, guarda, me lo sono tirato avanti fino a tutto il gioco, cioè è stato devastante. Parlando di quest'anno invece, anche ai livelli di Zaniolo della settimana scorsa e di Bruno Fernandes, sono i migliori trequartisti con giocatore chiave del gioco. Andiamo sul dettaglio. Spicca soprattutto in velocità 95, controllo palla anche 95. Accelerazione 88, poi velocità dribbli anche 93, possesso stretto 91, passaggio a rosaterra 91. Gli altri ha comunque passaggio tutto sopra gli 85, 86. È completo, centrocampista completo. Esatto. Sì, sì, può fare anche il centrocampista centrale, raggiunge il 90. E anche la seconda punta o l'esterno. Cioè può giocare dappertutto, da centrocampo in su, può giocarti dappertutto. È molto d'utile, sì. Sì, sì, sono d'accordo. Poi è per un metro e 88 a livello fisico, rende benissimo in mezzo al campo. Se lo trovo sarà una battaglia con Cruyff, a mio avviso. C'è Bruno Fernandes, ma tra lui e Cruyff lo proverei sicuramente questo Avers, che è molto molto interessante, poi come hai detto tu è molto molto d'utile sia da centrocampo che in attacco. Andiamo avanti, mi sembra che abbiamo l'ultimo, che è Zuma, il difensore. Esatto, Zuma arriva al 92. Pensai un pochino meglio, però vediamo un po' in dettaglio Zuma. C'ha 98 di elevazione, 98 di comportamento difensivo, con un pallo 92 e 93 di velocità. È abbastanza veloce perché c'ha 87 di velocità, accelerazione 80, con un tratto fisico 95. Io direi che è un difensore di seconda fascia, non di prima, perché manca qualche punto a livello difensivo, ma sicuramente è un bel giocatore. Che ne pensi Marco? Sì sì, molto fisico, una buona elevazione, si raggiunge un overall di 92, quindi manca quello step in più. Per essere più migliori, esatto. Poi c'è la carta incontrista, che è ottima per un difensore, un metro e 90 di altezza, ottimo difensore, ma forse per una seconda squadra può andare bene. Manca quel pizzico in più per essere un top giocatore come ad esempio Vandic o DeLitt. Prendiamo i due nomi più altisonanti dei giocatori normali che ci sono. Però secondo me è un buon difensore, ma qualcosina pecca. Poi ovviamente provatelo, perché magari è buggato e non ci possiamo fare nulla. Io andrei col Tottenham, abbiamo Kane, che abbiamo già avuto modo di commentarlo nelle precedenti versioni, mi sembra ancora quello dell'inglese. Vediamo un attimo, sì, sono già usciti due volte Kane. Partiva da 91, questo per 91 è molto simile alle altre versioni. Kane spicca in finalizzazione che c'ha 98, comportamento offensivo 98, c'ha 3 di precisione piede debole, 2 di frequenza piede, 91 di controllo palla, colpo di testa e elevazione 90 e 85, discreta velocità anche se non un attaccante di profondità, c'ha 83 di velocità e 78 di accelerazione, contatto fisico 90 e resistenza 93. Secondo me sicuramente è un bomber, su questo non c'è dubbio. Però io faccio sempre il discorso che in avanti abbiamo tanta tanta gente che può giocare, non so Marco cosa ne pensi di Kane. Sì, sì, quello sì, però c'ha delle qualità che magari anche i top player non hanno, cioè è abbastanza bravo di testa, la cosa buona è che entrambi i piedi è abbastanza buoni, quindi non è che devi stare a posizionarti la palla su un piede rispetto a un altro, e appena arriva la palla calci in porta e senza pensarci due volte. Sì, sicuramente è un'ottima finalizzazione Kane. Andiamo avanti, abbiamo Son che arriva a 93, ah un pochino basso Son, pensavo qualcosina in più, era uscita la versione Pot che partiva dal 91 che è molto più forte, che ci dici del coreano? Sì, stavo appunto guardando le altre versioni uscite, questa è proprio la peggiore delle tre, è molto simile addirittura alla sua versione base, niente dai, spicca in velocità, statistica buona comunque in tutto, in accelerazione, abbastanza veloce, un buon passaggio, una buona finalizzazione, è abbastanza completo, anche lui può giocare in diversi ruoli, tutti i ruoli dell'attacco, centrocampista offensivo e anche nelle due fasce di centrocampo. È buono però se si è in possesso di qualche sua versione precedente, lo si può usare per dargli un impasto per esempio. Esatto, c'è lo stile di gioco taglia al centro che vi ricordo che mettendolo ESA, lui tende ad accentrarsi per calciare col piede. Poi c'è 4-3 di piede, nota di merito a Son della frequenza e precisione di piedi deboli. Buon giocatore però, che ne so, ESA ci può essere Ronaldo ad esempio, e l'hanno regalato a tutti Ronaldo la versione normale, quindi da provare ma a me non convince particolarmente rispetto ad altri giocatori, perché come abbiamo detto prima, secondo me c'è tanta abbondanza in attacco. Eh magari Rudy, magari sono certe persone che giocano con il 3-5-2, a quel punto come centrocampista laterale magari può essere un po' più... Sì, sicuramente lo fa di ruolo, quello sicuramente... Appettibile, sì. Esatto, perché è proprio di ruolo un CLS. Però di solito con un 4-3 si schiera ESA. Sicuramente CLS è di ruolo, quindi può essere interessante per quel motivo lì. Andiamo avanti, chi abbiamo? Mi sembra Don Belè. Allora, a me mi ha cambiato i giocatori. Allora, vado in ordine, andiamo Loris, perché mi ha cambiato i giocatori Passmaster. Abbiamo Loris, andiamo velocemente col portiere francese, c'è il 97 comportamento portiere, 98 di presa, respinta 99, riflessi 99, estensione 96. È un ottimo portiere, un over, secondo me, potrebbe andare pure il 94, visto che c'è quasi tutte le skill 99. Di seconda fascia, sì, diciamo di sì, perché abbiamo Ter Stegen, abbiamo Neuer, abbiamo... Vabbè, chi ha preso la Bayer Monaco, Khan, poi c'è Cessni, c'è Andanovic. È un portiere che... Nella top 10 del gioco, non so cosa ne pensi tu, Marco. Sì, sì, è buono, buonissime le statistiche. Può starsi benissimo, sia anche con quelli di prima fascia. Sì, sì, però... Poi, io sui portieri, vabbè, io c'ho Khan, personalmente, con la Bayer Monaco Edition, però, di solito, si utilizza il portiere per quando è in condizione. Che ne so, Alisson è A, si mette Alisson, se c'è De Gea, si mette De Gea, se c'è Cessni, si mette Cessni, se c'è Andanovic. Di solito, il portiere lo utilizziamo per la condizione che c'è nel gioco. Io la vedo così, l'anno scorso facevo così io. Andiamo avanti. Allora, abbiamo Alder Wild, che l'abbiamo commentato con il pull del Belgio, che è molto, molto simile alla sua versione. Allora, è un pochino lento come difensore, però, a livello difensivo, ragazzi, secondo me, merita un occhio, visto che c'è 97, comportamento difensivo, 95 di recupero palla, aggressività 90. Elevazione 94, coperto S90. Pecca un po' di velocità, come vi ho detto prima, velocità 78, 71 di accelerazione, qualche punto in più non sarebbe fatto male. Contatto fisico 94, 85 di resistenza, passaggio raso a terra 86 e passaggio alto 90. È un ottimo giocatore, un ottimo difensore, ma un gradino sotto rispetto ai top team, ai top player di difesa. Che dici, Marco? Sì, c'è la cartabilità sviluppo, interessante, un buon difensore. Esatto. andiamo avanti, allora abbiamo, allora, Bale, che ci dici del terzino, dell'ex terzino sinistro gallese che poi l'hanno spostato in attacco? Sì, Bale, chiaro, sì, non è più il Bale di una volta, le statistiche sono scese, però comunque spicca ancora in velocità 96, potenza di tiro 94, finalizzazione 91, calci piazzati 91, tiro a giro 91, velocità dribbli 90. Sì, dalle statistiche sono molto buone, non sono più come quelle degli anni passati, però comunque è un buon giocatore. Sì, sì, abbastanza equilibrato. L'unica cosa che sto guardando è che non può fare il terzino sinistro, visto che lui è nato a terzino sinistro nel Tottenham, e avrei messo pure la carta terzino sinistro come giocatore. Poi c'ha tantissime skill, c'ha quasi tutte le skill complete, come potete vedere, eccole qua, quindi è un buon giocatore sicuramente da provare. Andiamo avanti, poi mi sembra che abbiamo Don Belè, che secondo me merita molto Don Belè, tu che ne pensi? Sì, Don Belè è forse uno dei migliori del pool qua del Tottenham, è molto interessante. Non spicca in nulla, però è buono dappertutto, cioè, dalla velocità alla fase difensiva, ai passaggi, al dribbling, pecca un po' colpo di testa, però tutto sommato sembra proprio un ottimo giocatore invece. Sì, è molto molto equilibrato. Ogni presente. Esatto, esatto, non spicca nulla, ma è molto equilibrato, come ha detto Marco, secondo me è da provare, secondo me è da provare questo francese, è molto molto da provare. Poi c'ha diversa abilità, ogni presente, cioè c'è tutto per fare il centrocampista, fa sia la fase difensiva che la fase offensiva in modo ottimale, pecca un po' in finalizzazione, perché c'è la 79 di finalizzazione, ma secondo me è un ottimo centrocampista, un piedino sotto a cantè, ma lui secondo me merita un occhio di riguardo. Abbiamo Doherty, allora, cos'è, terzino destro, vai pure Marco? Doherty interessante perché c'è la carta terzino mattatore, che non è molto facile da trovare, sì, come giocatore in sé arriva un numero al massimo di 91, cosa può spiccare? La resistenza è il suo pezzo forte, diciamo può farti la fascia avanti e indietro quasi per tutta la partita, velocità 89, sì, tutto sommato c'è di meglio, però magari con questa carta terzino mattatore a qualcuno può interessare. Sì, l'unica cosa è che terzini di destri scarseggiano, è di secondo livello, di seconda fascia perché abbiamo Arnold, ad esempio Bellerin, che sono forse un pochino migliori, io li ho tutte e due, sicuramente a me questo giocatore sinceramente non serve perché lo vedo un pochino troppo lento come terzino destro visto che abbiamo qualcosina di più di interessante nei pull passati. A livello difensivo ha un 78 comportamento difensivo, 78 di coppia palla aggressivo 81. A me non convince particolarmente anche se la notte di merito può avere la rivoluzione sulle palle sui calci di angolo che può essere interessante. Poi come stavi dicendo tu terzino mattatore rispetto al terzino offensivo lui si accentra in fase offensiva quindi può essere una chiave diversa di stile di gioco. Ecco appunto. Io andrei avanti Marco, abbiamo insieme l'ultimo che abbiamo Regulion, l'ex giocatore del Sevilla che ha vinto l'Europa League. allora vai pure tu con Regulion. Aspetta che mi si sta caricando la pagina. Ok allora vado io. Rispetto a Dorethi come potete vedere lui ha 93 di velocità 94 di accelerazione come a livello difensivo è molto più forte di Dorethi. C'ha 82 comportamento difensivo 86 di coppia l'aggressiva 85. Passaggi così così perché c'ha 78 di passaggio all'osoterra 84 di passaggio alto non sa usare il piede debole perché c'ha 1.1 di frequenza e precisione a livello di dribbling c'ha 84 di controllo palla 82 di dribbling possesso stretto 77 ha un buon terzino ma non non il top assoluto che ne pensi Marco? Non so se ti ha caricato la pagina. Sì sì stavo guardando c'ha solamente due abilità cambio di direzione incrociato e spirito combattivo a me mi dà solo spirito combattivo qua su PES Master perché vi ricordo che li sta guardando su PES Hub Marco a me mi dà solo spirito combattivo lo scopriremo lunedì se c'era anche taglio alle spalle a giro mi sembra hai detto giusto? Cambio di direzione incrociato mi dà per sapere esatto dovrebbe essere taglio a spalle a giro dovrebbe essere quella carta lì poi le traduzioni da up a up cambiano un pochino io direi che per oggi è tutto anche se dovremmo fare la classifica dei migliori 3 allora andiamo con il Chelsea migliori 3 per te? del Chelsea Kanté Avers e Werner ok sono d'accordo con te io ci metterei anche il quarto che potrebbe essere Abram come come soluzione al posto di Werner e se vi manca il terzino sinistro Creewell sicuramente del Tottenham allora Tottenham vi vado io allora dico Don Belè Kane se vi manca una punta anche se ne abbiamo in abbondanza io ne metterei solo due perché altri non mi convincono non so tu Alder Evald metterei io come terza come difensore si può essere una soluzione a livello difensivo interessante anche se secondo me ha un gradino sotto ai top team ai top player che ci sono nei pool io direi che per oggi è tutto ragazzi vi ricordo di seguire il canale di Tele2Games che ci saranno tutte le news di Fabrizio Tropeano su Playstation 5 e poi tutti i pool tutti gli aggiornamenti di ProBritun Social 2020 anzi 2021 scusate ragazzi è stato un piacere e ci vediamo alla prossima puntata ciao Marco ciao ciao a tutti